E che caso? Buongiorno! Video improvvisatissimo in collaborazione con il canale None of This Is Real. Il mio inglese è proprio muah, 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 di... ciao. Wow, la ragazza di questo canale si chiama Daniara, che l'ho letto perché non me lo ricorderò mai, quindi ciao Daniara, muah, vi metto giù, sapete, come sempre, come in ogni collaborazione, vi metto giù nell'info box il suo canale, il suo video, tutto, andate a vedere l'info box, ok, ok, allora, tag inventato dalla splendida, magnifica, ciao Harry, ciao R, guardate che bello. Ragazza Rossetto, muah, ciao ragazza Rossetto, Valentina, sì, Valentina, ciao Valentina, e... cinque cose, adesso non ci vedo un cazzo, cinque cose che faccio quando nessuno mi vede, ma a voi che cazzo ve ne frega, sapere cosa faccio io quando nessuno mi vede, vi fate i cazzi miei, quindi facciamoci i cazzi della Cristina, facciamoceli. Nuova location, molto, 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 yeah, con la cucina, allora, la prima cosa che faccio quando nessuno mi vede, mi depilo, le gambe, sotto le ascelle, sapete, se no, andare via con i tarzanelli sotto le ascelle non è che sia il top, poi magari anche il baffo qui, sono biondi, non si vedono tantissimo, però comunque, Donna Barbuta è sempre piaciuta, oh, 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 e anche nella... La seconda cosa che faccio, allora, io capisco, ragazza Rossetto, io capisco Candy Cat, siamo nel gruppo delle estitiche, cioè, vi capisco, io quando, quelle poche volte che faccio la pupù, devo stare da sola, se qualcuno entra in bagno, va, è finita, cioè, non ci riesco più, devo stare da sola e nessuno mi deve guardare, nessuno mi deve vedere, devo fare la cacca, così. La terza cosa, io sono molto, come si dice, non voglio che gli altri mi vedano quando mi vesto, mi svesto, mi sono ignuda, nella mia totale ignudità e voglio, sarei da sola, non voglio che nessuno mi veda quando mi lavo, quando mi vesto, perché mi vergogno. Dopo, parlo al cellulare, cioè, più che altro, più che nessuno mi vede, quando nessuno, non voglio che mi sentano anche, perché magari qualche bestemmia mi scapperà, qualche cosa, quando parlo con le mie amiche, tipo la Ines, ciao Ines, ma che cazzo, non voglio stare da sola a parlare, non voglio che nessuno mi veda, perché se no mi metto in soggezione, non sono più, mi vergogno. L'ultima cosa, che quando, cioè, voi mi vedete così, no, tipo pagliaccia, sì, io sono così, però sapete, no, che mi piace ballare, io ballo in casa, lo sapete, però ci sono dei momenti in cui mi parte lo schizzo, lo schizzo così, tac, in testa, e voglio fare, tipo, un po' la sexy, no? Allora, quando nessuno mi vede, ballo un po' sexy, un po', come si dice, va benissimo, ho una palla, una pupilla più grande dell'altra, adesso giovedì ho la visita, vedremo cosa mi dicono i dottori, andate a vedere, ho i peli, beh, guardate i miei peli sotto i suoi capelli, andate a vedere il canale di Daniara, spero di aver detto il nome giusto, se no, figura di mierda, Ciao a tutti, ciao a tutti, ho fatto la maniera perché sono trasferito a una nuova casa e ciao.